Sì, non ci sono mai navi. Proviamo. Dov'è stavolta? Andiamo a villaggi. Prova i miei sui cofano. Me la dà gialla però anziché rossa, sai? Oh, oh, si può mettere. Oh, piramica. È la fine. Vai, però per far scoppiare devo scendere, quindi... Mamma mia, mamma mia. Oh, dimmi quando scendo, che scendo pure io, eh. No, ditemelo al volo, scendo... Ma scendo anch'io, ragazzi. Non posso andare. No, ci scendo, non è vero, ci scendi. Senti, scendi, ti dico quando fanno esplodere. Senti, scendi, scendi. Eh, ma non esplode subito, eh. Vai, 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 vai. Non esplode subito, ci metti... Ma che po' da porca. Ok. Eh, ci mette... Deve fare il numero di telefono e il tempo che fa uno squeal. Eh, spingi, ma non è... Vabbè, dai, dai. Fammi fare questa. Ma perché non si è rotto? Eh, ma perché la faccio super atto. Tutto subito, sì che so... Seconda, suonai perci Twee Sera. Vivi la capلة Sera. susceptible di misteri. La capグla del android.